Che fai Damiana? Fai la foto? No! Le macchine davanti sono belle Stai riprendendo le macchine? No, il grande raccordo non è un senso fisico tangenziale Cambio passaporto, metti PIN Rettricamente però sarebbe troppo sentito Ti ricordi te Agnese? Che è una lettrice Ti ricordi? Lui è rimasto a lei invece, Wilton È rimasto a... come si chiamano i personaggi del libro? Manco i personaggi si ricordano più Di quali libro stai parlando adesso? Che libro è quello che ti abbiamo regalato? Non ti ricordi neanche... No, no, dai, è bruttissimo quel libro Ma che bruttissimo? Non è che brutto Non è che è triste, è triste Triste no ma anche c'è anche un messaggio positivo Cioè diventalo È razza che se c'è Come si chiamano i personaggi principali del libro? Come si chiamano i personaggi principali? Leone, Beatrice e... come si chiamano qua? Leo È Leone Leonardo Leonardo Vabbè Si chiamava Leone come... Cioè Tonino scusa che uscita... che numero di uscita vuoi prendere scusa? E ancora non lo so, non lo vediamo quando arriviamo Non dovremmo chiamare i nostri Eh lo rispondono, l'ho provato Certo che no Ma no, non chiedi se stanno ancora non Chiamano e chiedi se stanno ancora non Mi stai facendo l'orecchio Mi sono molto fatti Mi sono sfruttito Ma non si tratta di toccare Se ti tratta di toccare No perché quando è l'estate fa un conto Cioè oddio è vero, se vado a correre con questi è meno C'è una sudata tipo troppo Anche quando Camino prende la scuola Non si tratta di toccare Ma... Ma tu sorella? Ha paura della... cioè ha paura delle... Ha paura di vestizioni E quindi non è venuta? No, non è che soffre di vestizioni Anzi c'è proprio paura tipo... Cioè potresti prendere... Te no e invece Sara... La quattordicesima uscita però Che strano, vedi? No Non c'è il cuore, ho fatto Occhio Occhio malocchio Prezzemele finocchio Ah ma io ho le dita E anche... Condole insite Molto agguerrita e ragni Ma ti hai finito qua Agnese il percorso rosso? No, ho finito Infatti tutti tranne l'arancione Perché è troppo basso Ma vabbè Cioè l'arancione è normale No, seriamente Mi sono rifiutato di tagliarci sopra Ma sapete che Cinzia e Mario Volevano fare il percorso bambini Mi erano in puntata Poi alla fine l'istruttore ha detto Guardate non potete farlo Perché... Non c'entrate fisicamente no? Dentro a... Ai percorsi Volevano fare il percorso bambini Il mio preferito è stato quello grigio Ora dove vai? Sì, anche con la Zeppella Ora è bellissimo Quello tranne... Donino? Eh? Devi andare dritto ancora Trissimo Basta